buongiorno oggi siamo qui con Filippo Calafato produttore della lenticchia di Villalba e la prima domanda è appunto di raccontarci qualcosa di di questa lenticchia con le sue particolarità. Allora buongiorno a tutti eh per prima cosa appunto prende il nome la lenticchia di Villalba dal nostro paese dal nostro territorio eh Villalba si trova in provincia di Caltanissetta al centro della Sicilia da un altitudine dai seicentocinquanta agli ottocento metri con un terreno molto aggilloso. Grazie diciamo alla peculiarità del dell'ambiente climatico e del terreno consente di avere un prodotto tipico che è la nostra lenticchia di Villalba. La lenticchia di Villalba è un ecotimpo assieme grande eh raggiunge pure gli otto millimetri di diametro la lenticchia eh minimo cinque ehm ad un aspetto diciamo eh ha un aspetto di colore verde. Questo è dato dalla eh coltivazione dai metodi di coltivazione eh che si che si diciamo attua per la la lenticchia. Ehm l'altezza della pianta è all'incirca sessanta centimetri ma partiamo prima intanto come si coltiva la lenticchia. Si prepara il terreno nel periodo di ottobre con una lavorazione eh con una lavorazione eh del terreno superficiale e poi il periodo di semina va dalla fine di novembre sino a metà gennaio in base alle condizioni climatiche che abbiamo. Eh il metodo dell'estinzione dell'estilpazione delle dell'erbacce viene fatta tramite o la moto zappa meccanicamente o con la zappa manualmente. Eh vengono coltivati a filari da sessanta centimetri eh e poi nel periodo di di maggio comincia la pianta a cambiare eh di colore eh fino a raggiungere i fini di maggio e i primi di giugno un colore che va dal giallo al dal verde al giallo e lì praticamente è pronta la 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 si si è pronti per la la l'estilpazione della della pianta. Ehm quindi poi si lascia a covoni e intanto l'estilpazione si fa o manualmente o meccanicamente tramite falciatrice però il processo è sempre che si mettono queste piante a covoni in modo tale che stanno cinque otto giorni eh sul campo il baccello si asciuga e e speriamo che non viene in questo periodo noi speriamo che non vengano diciamo temporali estiviche perché è molto molto facile qui in Sicilia eh e rovinino tutto il prodotto poi si ha il processo di trebbiatura tramite una trebbia normale dove separa il baccello dalla paglia e dopodiché subito si eh tramite vagliatrici si separa il il seme da tutte le altre diciamo particelle più piccoli terreno polvere pietre o paglia quante quante rimane quindi più leggera e subito si eh mettono a sterilizzare perché eh si forma il tonchio il tonchio è un un animaletto che attacca il la lenticchia nella pianta quindi per evitare di ehm farlo riprodurre e perdere tutta la produzione subito vengono sterilizzate mettendo le lenticchie in una cella frigo meno ventuno gradi per almeno trenta giorni perché questi ventuno gradi devono arrivare sino al cuore del prodotto che che è immerso nella nella cella eh dopodiché si escono si fanno riposare quattro cinque giorni e poi si comincia la lavorazione certo i macchinari un po' che ci aiutano a selezionare il seme eh e però poi dopo diciamo la prima eh se me selezione che viene fatta tramite i macchinari noi puliamo tutte le lenticchie a mano eh la particolarità della lenticchia di Villalba e appunto come dicevo prima che ha seme grande eh verde a differenza delle altre popolazioni italiane che sono più piccole perché la più grande che c'è e insieme a tutte le altre lenticchie italiane hanno un alto contenuto di ferro, fibre e proteine. Eh il nostro seme lo conserviamo da tantissimo tempo perché conserviamo sempre quanto seminiamo conserviamo il seme coltivato quindi non è un discorso cioè custodiamo appunto il il seme per la lenticchia e un'altra particolarità oltre alla tantissima tantissimo ferro e fibre che la lenticchia di Villalba contiene un'altra particolarità è bisogno contraddistinguerla con tutte le altre lenticchie di importazione non dico italiane perché ma l'importazione che è la cottura la lenticchia di Villalba non si sfalda cioè non c'è separazione tra buccia e e polpa eh a differenza perché le le lenticchie canadesi sono simile o uguali come eh diciamo ehm vista cioè nel senso come come seme come colore come grandezza e alle volte viene appunto immessa sul mercato questa lenticchia chiamando lenticchia di Villalba dove una lenticchia di importazione chiaramente non vengono utilizzati eh fertilizzanti chimici e medicinali chimici e tutto diciamo eh secondo coltivato secondo il disciplinare Presidio Slow Food eh e queste sono in poche diciamo poche parole anche se mi sono diluncato le caratteristiche fisiche organolettiche e la produzione. Perfetto e invece la seconda domanda appunto riguarda l'uso gastronomico quindi come è meglio gustare le lenticchie per godersi al meglio appunto il loro sapore. Allora io sostengo sempre che noi siamo buoni bravi produttori di lenticchia di Villalba però non siamo tanto non ci spingiamo nel alla ricerca del del prodotto delle delle diciamo delle nella nel cucinare diversamente il prodotto perché noi forse per abitudine o per ehm come posso dire ehm per una questione culturale per una questione culturale noi utilizziamo sempre le lenticchie come zuppa o a minestra con con la pasta eh quindi li laviamo bene perché hanno una necessità cioè si lavano bene le lenticchie hanno una cottura di cinquanta minuti eh quindi non è che la vedono le persone infatti alle volte mi chiedono ma è grande ha bisogno di ammollo o bisogno di più cottura? No non ha bisogno di ammollo e circa cinquanta minuti la lenticchia eh si cuoce eh quindi la classica zuppa di lenticchie però vedo che diciamo molti con le lenticchie sperimentano tanti piatti eh magari le polpette o gli hamburger la cosa che mi viene però noi purtroppo andiamo a fare sempre la zuppa siamo buoni produttori ma purtroppo dal punto di vista diciamo gastronomico o di di cucina non sperimentiamo tanti tanti piatti quindi il nostro consiglio è sempre la classica zuppa. Perfetto ok grazie mille. Grazie a lei buona giornata e tante cose di nuovo.